Ora, come si fa l'illusione del chiodo piegato? Allora, questo è un chiodo normale, come lo vedete. Allora, si prende il chiodo, lo si fa così, vedete? In questo modo, il chiodo è dritto, dopodiché lo si accarezza delicatamente, e pian piano il chiodo si piega. Ecco qua, chiodo piegato. Operazione banalissima. Volete sapere il trucco? E la... questa non si dice, o meglio, lo diciamo dopo.